Torna a splendere l'ingresso di Palazzo Mosche e dei musei civici grazie al restauro del portone Lapideo e del portone Ligno dell'edificio. Un'opera che è stata possibile grazie al contributo del Lions Club Pesaro Host e che ha restituito così alla città il giusto volto per un edificio tanto storico quanto importante. Speriamo di aver fatto un buon lavoro, l'anno scorso io ero presidente del Lions Club Pesaro Host e avevamo deciso come club di fare qualcosa per Pesaro capitale della cultura 2024, ci siamo interfacciati con il comune e è venuta fuori questa idea di ristrutturare il portone e il portale Ligno dei musei civici di Palazzo Mosche. Un impegno gravoso per il club perché abbiamo speso più di 14 mila euro su un budget di 24 mila e passa euro e quindi è stato uno dei service più impegnativi per noi. Però siamo stati molto felici di poter dare alla città una così bella, di far risplendere una così bella opera alla città di Pesaro. Spero di aver lasciato un segno della nostra attività, come dicevo appunto il portone, il portale sono state una delle attività, quella principale forse come impegno economico ma non l'unica. Abbiamo fatto un sacco di attività l'anno scorso, siamo riusciti a raccogliere più di 6 mila euro per varie associazioni cittadine, percorso donna, la casa Tabanelli. È stato un anno impegnativo ma proficuo. È stata una bella novità per quest'anno la capitale della cultura per cui siamo grati particolarmente al Lion Club Host di Pesaro, ai presidenti Marchetti e Illuminati nell'alternanza dei due mandati perché per noi è un forte valore simbolico nel 2024 come capitale della cultura ma anche perché questa piazza è stata liberata dalle auto ormai dieci anni fa e il portone non era diventato nero a caso, soprattutto la pietra d'Istria che corrisponde al portale. E quindi averla fatta tornare al bianco originario, questo intervento importante fatto dall'azienda Gamma, non nuova, interventi di qualità anche nel nostro territorio, ci presenta nelle migliori condizioni ma ci aiuta a raccontare meglio anche una piazza e un centro in generale liberato sempre più dalle auto dove non devono stare e con invece la maggiore attenzione rispetto alla valorizzazione dei beni culturali e degli spazi. È importante che il lavoro fatto sul portone, quindi anche sul legno a partire dalla scelta cromatica e anche dal recupero delle due facciate, quella interna e quella esterna, di noce e di legni differenti perché hanno potuto così anche dare un senso compiuto all'intervento che è la prima opera d'arte che si incontra dopo la piazzetta Vange entrando nelle tribù dei civici questo portale e siamo molto contenti che abbia coinciso con questo anno speciale.